Allora questo è il neon, io un neon così non l'ho mai visto da altre parti poi mi sono tagliato un dito, vabbè a parte dei detti questo è il neon, che se questo schifo di telefono me lo mettesse a fuoco ma non me lo mette perché è un cesso di telefono ecco, questa è la marca, si sa, io un neon così non l'ho mai visto ora si gira, è anche un attacco così su un neon, io non l'ho mai visto io penso soltanto la Leica facesse queste merdate qui non ho mai visto un neon, io non sono elettricista però non ho mai visto una cosa del genere rispetto probabilmente soltanto la Leica che dicano la Leica è una marcia in più per andare a fare in culo soltanto la Leica comunque realizzava degli accrocchi a questa maniera cioè, che poi non è neanche rotondo pari, è rotondo curvo torto ma che schifo di roba è grazie a tutti grazie a tutti